Lo Shintoismo, o Shinto, è la religione indigena del Giappone, profondamente radicata nella cultura e nella storia giapponese, con pratiche e credenze che risalgono a migliaia di anni fa. Ecco una panoramica dei principali aspetti dello Shintoismo. Il concetto centrale dello Shintoismo è il kami, che si riferisce a una vasta gamma di dei, spiriti e forze della natura. I kami possono essere esseri naturali, come montagne, alberi, fiumi o fenomeni naturali come il vento e la pioggia, oltre a spiriti ancestrali. Ogni entità della natura può essere considerata sacra e degna di venerazione. Lo Shintoismo attribuisce un significato spirituale alla natura, percependo i luoghi naturali come le montagne, le foreste e le cascate come dimore dei kami. Questo porta a una profonda considerazione e rispetto per l'ambiente naturale. Uno degli aspetti fondamentali delle pratiche Shinto è la purificazione. I santuari Shinto, o Jinja, sono i luoghi sacri dove i kami vengono venerati. Questi santuari sono diffusi in tutto il Giappone e fungono da luoghi di culto e celebrazione per eventi importanti della vita, come il matrimonio e il capodanno. L'accesso al santuario solitamente include il passare attraverso un tori, un tradizionale portale che segna l'entrata in un'area sacra. All'interno della pratica quotidiana, un ruolo importante è rivestito dai mazzuri, festività legate ai cambiamenti stagionali e ai raccolti agricoli. Queste celebrazioni includono parate, offerte ai kami, danze e spettacoli tradizionali, e sono momenti di grande gioia e partecipazione comunitaria. Nei santuari, i devoti possono fare offerte, omikugi e ema, e chiedere benedizioni. Gli omikugi sono dei foglietti della fortuna che contengono predizioni, che possono essere positive o meno. Se negative, i foglietti possono essere legati ad alberi o fili nel santuario per allontanare la sfortuna. Gli ema sono tavolette su cui si scrivono preghiere o desideri, che vengono lasciate al santuario per attirare l'attenzione dei kami. Molti seguaci dello shintoismo praticano rituali quotidiani di preghiera e purificazione. Questo può includere lavarsi le mani e sciacquarsi la bocca all'entrata di un santuario, offrire cibo o sake ai kami, e recitare preghiere. I due testi storici e mitologici principali dello shintoismo sono il Kojiki, registrazioni degli antichi eventi, e il Nihon Shoki, cronache del Giappone. Questi testi contengono miti, storie degli dei, e la genealogia della famiglia imperiale giapponese, ritenuta di discendenza divina. Lo shintoismo ha influenzato profondamente la cultura giapponese, dall'arte alla letteratura, alla festività, e persino ai principi morali. La sua enfasi sull'armonia e il rispetto per la natura e gli antenati si riflette nelle varie forme di espressione culturale e tradizionale del Giappone. Ha coesistito e spesso si è integrato con il buddismo, il che ha portato a un sincretismo che si vede nelle pratiche religiose giapponesi. Molti giapponesi non considerano problematico praticare sia riti shinto che buddhisti. Lo shintoismo oggi continua ad essere una parte vitale della vita spirituale e culturale del Giappone, con milioni di persone che partecipano ai suoi rituali e festività, mantenendo vive queste antiche tradizioni. Prima di concludere questa breve introduzione, ci soffermiamo sulla divinità più importante nella tradizione shintoista, Amaterasu, la dea del sole, considerata l'antenata della famiglia imperiale giapponese. La sua leggenda è centrale nella mitologia shinto e il suo santuario principale è il grande santuario di Ise.